I militari della compagnia di Sala Consilina hanno tratto in arresto nella notte un 41enne del posto per il reato di tentato omicidio. Intorno alle ore 22 di ieri una chiamata al numero 112 di emergenza denunciava un'aggressione nei pressi del campo sportivo di Polla, nella quale un giovane 21enne di origini marocchine era rimasto gravemente ferito in seguita ad un accoltellamento. Sul posto sono giunti immediatamente i carabinieri della stazione di Polla insieme a quelli del Norri. Il giovane aggredito è stato trasportato d'urgenza presso il vicino ospedale Luigi Curto. dove è stato sottoposto ad un delicato intervento chirurgico. I carabinieri quindi hanno subito avviato serrate indagini per identificare l'autore del grave gesto. In poche ore l'attenzione si è spostata su un tossico dipendente della zona. Nella sua abitazione infatti nel corso di una perquisizione sono stati ritrovati abiti intrisi di sangue ed un grosso coltello da cucina utilizzato sicuramente dall'aggressore. Alla base del gesto, probabilmente motivi legati al mondo degli stupefacenti, il 41enne di Polla si trova ora ristretto presso la casa circondariale di Sala Consilina a disposizione della Procura della Repubblica di Lago Negro.